Inquinamento, fast food, stress ed esaurimento nervoso. Sempre più spesso le cose ci sfuggono di mano, mettendo a rischio la nostra salute e qualità di vita. È ora di cambiare modo di pensare, di vivere più leggeri, di sentirsi più in salute. Il nostro corpo e la nostra anima hanno bisogno di energia e ora possiamo averla direttamente da madre natura. Vi presentiamo Nutrisano System 4 macchinari in un unico design. Il più pratico, efficiente e affidabile dispositivo per il vostro benessere di tutti i giorni. Potrete lavorare tutti i cibi, frutti e ortaggi alla velocità della luce, estraendo perfettamente tutte le vitamine e i preziosi sali minerali che contano e di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Il segreto? L'ultimissima combinazione di un motore super potente che sfrutta la tecnologia ad alta velocità. Grazie a quattro grandiosi dispositivi tutto fare e tre lame in acciaio inossidabile classe A. E in pochi secondi avrete un velocissimo frullatore per frappè, un potente tritatutto, un versatile macinino e un capiantissimo miscelatore da un litro di capacità. Nutrisano è facile da usare, grazie alla straordinaria velocità delle lame e da un innovativo montaggio a trasmissione che converte la velocità in potenza. Ecco a voi la qualità assoluta dell'unico e originale Nutrisano System 4 in 1. Non confondetelo con le imitazioni. Frullati energetici, sani multivitaminici, fresche zuppe fatte in casa, deliziose salse con pochi grassi, insalate bilanciate, gustosi succhi di frutta e moltissimi altri cibi e piatti da preparare. Tutto in un istante, con ingredienti naturali e senza conservanti. Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto, perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capiantissimo miscelatore da un litro per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto, vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente Tritatutto e grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.iclshop.tv E adesso qualche informazione in più sull'innovativo Nutrisano System dal vostro ospite Joseph Peppi Ressler. Oggi ho qualcosa di molto speciale. Oggi vi mostrerò qualcosa che potete davvero usare a casa vostra per mangiare in modo sano. Signore e signori, ecco a voi Nutrisano System. Meno tempo in cucina, più tempo per la vostra famiglia. Questa macchina può permettervi tutto questo. Avete un frullatore, avete un tritacarne, un macinino e naturalmente il componente principale è un motore ad alta velocità. Questo motore riduce in liquido assolutamente tutto. Con oltre 17.000 giri al minuto potrete lavorare frutti e ortaggi. Ma come arriviamo al frutto? Come possiamo essere certi di non buttare via fibre preziose? Abbiamo la soluzione perfetta. Attaccato a un disco levigato abbiamo questo coltello Piragna. Questa parte spazzola il fondo della massa sparando tutto verso l'alto. E poi, grazie alle due lame AV Piragna, lavora tutto. E per essere sicuri che tutto funzioni alla perfezione, abbiamo anche un recipiente che si restringe conicamente verso l'alto. Come si usa? Un gioco da ragazzi. Uno è la velocità lenta. 12.000 giri al minuto. Lenta tra virgolette. Due indica una velocità superiore a 17.000 giri al minuto. E pista per pulse, per tritare le cipolle. E adesso ascoltate la potenza del motore ad alta velocità. 17.000 giri al minuto. Come una macchina da corsa. Ora, le vitamine sono state mandate verso l'alto e lavorate dalle lame sotto. Questa macchina lavora semplicemente in modo perfetto. Aspira l'aria sul fondo. Espelle l'aria in alto. Il motore raffreddato ad aria è ideale. Un sistema sicuro al 100%. È sempre un sistema chiuso. Con questo grande apparecchio, signore e signori, non potete sbagliare. Quello che abbiamo qui è un perfetto succo di mango. E il gusto, trasformando la frutta in un vero e proprio gioiello per il vostro corpo, trattiene il 100% di tutto. Scorre come miele. E non posso fare a meno di assaggiarlo. Al posto vostro. Devo dirvi se è buono o no. Posso assicurarvi che è il miglior succo di frutta che abbia mai assaggiato. Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto, perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System, ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capientissimo miscelatore da un litro per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto, vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente Tritatutto. E grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.eclshop.tv Ma questa macchina può fare molto, molto di più. E quello che sto per presentarvi ora è sensazionale. Triteremo della carne con questa macchina. Siamo gli unici capaci di convertire velocità in potenza, perché qui dentro abbiamo nel Tritatutto una trasmissione incorporata, come un mountain biker capace di percorrere pendi ripidi e convertire energia in potenza. E questo al posto del Tritacarne che dovete di solito usare a casa vostra. Prima lo facevamo a mano, poi abbiamo acquistato un cosiddetto robot da cucina con 1000 watt di potenza e oltre, di cui in realtà non avete bisogno e che raramente utilizzate. Ma quella che abbiamo qui, signore e signori, è una lama falciforme, con un meccanismo di circolazione che taglia dall'alto al basso e dal basso verso l'alto. Questo garantisce il 100% dei risultati. Il motore non subisce sforzo. È raffreddato ad aria, signore e signori. 17.000 giri al minuto convertiti in potenza tramite il motore ad alta velocità. Una corsa da 5 secondi per taglio grosso. Una corsa da 10 secondi per taglio fine. E se volete una finizza ancora maggiore, alla tartara. Nessun problema. E se non sto abbastanza attento e improvvisamente apro il coperchio, la lama si ferma. È decisamente il miglior attrezzo che riesca a immaginare. Solo risultati al top. Guardate questo. Dall'alto, lavorato al 100%. Dall'interno, ancora meglio. E il top del top, sul fondo. E ora vi mostrerò la stessa cosa con le cipolle. Con la funzione Pulse potete ottenere una regolazione millimetrica di quanto grossi o fini volete le cipolle. Lo accendete e la regolazione è automaticamente su taglio grosso. In 3 secondi. Premete il pulsante Pulse una seconda volta e passate a finezza media. In 5 secondi. E la terza volta avete ciò che i cuochi chiamano cipolle finemente tritate. Perché il succo rimane all'interno, tagliato dalle lame, non ridotto in purea. Ecco come si presenta una cipolla tagliata perfettamente. In alto, al centro e anche dal di sotto. Se la cipolla è tagliata a secco non sarà amara. Poiché il succo della cipolla è contenuto all'interno, ecco ciò che la rende perfetta. La lama falciforme può anche creare creme spumose, albume e aceto balsamico. Non è mai stato possibile con altre macchine. Guardate qui. Velocità 2 diventa più leggera. Si sta sollevando. Sta diventando più cremosa e più soda. Perché? Perché l'aria è nel recipiente e viene lavorata in massa. Con la nostra lama avrete sempre risultati fantastici garantiti. Di primissimo livello. Montatura perfetta. E ora guardate questo. Fiocchi sodi di crema balsamica. Anche se non avete idea di cosa significhi cucinare, con questa macchina nella vostra cucina diventerete dei veri master chef. Amo condurre una vita salutare e seguire una dieta salutare. Voglio sapere cosa c'è nel cibo che mangio e con Nutrisano System posso decidere da sola cosa metterci. Tutto è preparato fresco e le vitamine non vanno perse. Se avete un Nutrisano System a casa non avete bisogno di nient'altro. I risultati sono fantastici e hanno un sapore straordinario. È velocissimo, posso fare di tutto. Ho un frullatore per frappè, ho un tritatutto, un macinino, un mixer. Potete fare della crema gelato, zuppe, creme spalmabili. Tutto in un solo apparecchio. È davvero grandioso. Siamo stati nel più grande centro commerciale d'Europa per presentare Nutrisano System al pubblico più critico del mondo, i futuri clienti. Stiamo per presentarvi una prima mondiale. Stiamo per fare un gelato all'albicocca. Abbiamo qui ingredienti congelati, proprio come li istraete dal freezer. 17.000 giri al minuto vengono convertiti in pura potenza. I vostri elettrodomestici a casa non ce la farebbero assolutamente. Ecco la potenza di questa macchina. Gelato, cremoso, totalmente naturale. Senza emulsionanti, stabilizzanti, senza dolcificanti. Sarà un'esperienza nel gusto assolutamente nuova. Create voi i vostri gelati. Niente sostanze chimiche, solo natura pura. Ora mettetelo in funzione. Lavora tutto in modo uniforme. È in assoluto il gelato più cremoso e naturale. Non potete comprarlo da nessuna parte. Perfettamente sodo e cremoso. Fa venire l'acquolina in bocca. Una ragazza, lei sarà la prima. Questo gelato è una bomba. Un gelato multivitaminico. Sarete felici e soddisfatti di questa macchina. Con Nutrisano System potrete prendervi cura della vostra salute, della forma del vostro corpo e mantenervi in forma con frullati, farappè e gelati. Non avete bisogno di acquistare un macinino, né un frullatore per frappè, né un miscelatore con una lama piragna. Lo avrete tutto in uno, incluso in questo grandioso tritatutto. E potete scegliere il colore che meglio si intona alla vostra cucina. Volete questa macchina? Sì! Allora ne avrete una. Non sprecate il vostro denaro in cibo spazzatura, prodotti precotti e costosi integratori dietetici. Mangiate meglio, in modo più sano e migliorerete la qualità della vostra vita. Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto! Perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System, ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capientissimo miscelatore da un litro per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto! Vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente tritatutto. E grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Tutti gli inserti sono facili da pulire, possono essere lavati in lavastoviglie e i recipienti sono adatti per la cottura in microonde. Gratis! Due coperchi ermetici salva freschezza per una lunga conservazione e un pratico coperchio. Anche questo corposo ricettario con tante deliziose e salutari idee è gratis. Chiedete al vostro operatore l'indispensabile set di ampliamento Nutrisano con tre recipienti aggiuntivi per molte più possibilità di uso e conservazione. Una pratica bottiglia con coperchio ermetico per questa fantastica bevanda energetica ovunque vi troviate. Cosa state aspettando? Questo è Nutrisano System. Non farti sfuggire questa offerta televisiva e risparmi subito il 50% del valore commerciale. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.eclshop.tv Nutrisano System è il macinino migliore in assoluto. Il migliore perché è un macinino a basso attrito, piccolo volume, un quarto di litro, il disco levigato con due lame che sminuzzano i baccelli di caffè e non diventano opache. Non toccano mai il tagliere alla stessa stregua di un coltello da cucina, bensì entrano in contatto solo con ciò che stanno macinando e questo senza generare calore. Uno degli articoli acquistati più di frequente negli ultimi dieci anni è questa capsula da caffè, perché quello che c'è dentro viene prodotto a livello industriale allo stesso modo. Con la macinazione del caffè a basso attrito non si bruciano gli oli essenziali. E la stessa cosa accade qui, 17.000 giri al minuto, ora guardate cosa intendo con un'azione tridimensionale. Spinge verso l'alto e ritorna in basso, ciò che vedete qui è caffè finemente macinato, ora guardate la lama, confrontatela con quella di un macinacaffè, frantuma praticamente tutto. La nostra macchina taglia il caffè, facile da distribuire e per mantenerlo fresco insieme alla macchina perfetta forniamo anche il coperchio perfetto. Preserva l'aroma, proprio come la capsula di caffè, potete conservarlo nella vostra credenza, ve ne diamo due e non è tutto, voglio superare questa offerta. Oggi incluso anche uno straordinario miscelatore che funziona con il coltello piragna. Signore e signori, direttamente dal congelatore, mettete cubetti di ghiaccio nel recipiente, le lame non diventano mai opache, non si usurano, solo risultati perfetti al 100%. Non acquistate cibi già preparati in negozio, cucinateli freschi, dimenticate gli emulsionanti, dimenticate gli stabilizzanti, il colore che vedete qui è quello reale. Poi aggiungete del latte, non si può stabilizzare il latte per periodi prolungati, quindi mi chiedo come sia possibile che il succo di frutta in negozio rimanga fresco nel frigorifero per 5 settimane, esiste solo nelle favole, ma quello che vedete qui è reale. Quando lo accendete sentite 17.000 giri al minuto, sminuzza tutto, funziona dall'alto al basso, e se dimenticate qualcosa, aprite il coperchio, niente schizzerà fuori da sopra, rimarrà tutto all'interno e sarà risucchiato verso il basso. Questo significa che se voglio aggiungere un'altra cosa, posso farlo mentre la macchina è in funzione e quando non sentirò più nulla, quando tutto sarà mescolato, avrò un delizioso milkshake, fatto di ogni tipo di frutto, signore e signori. Appena fatto in un lampo, con questa macchina incredibile, non perdetelo, è il partner ideale per una dieta salutare. Non sprecate il vostro denaro in cibo spazzatura, prodotti precotti e costosi integratori dietetici. Mangiate meglio, in modo più sano e migliorerete la qualità della vostra vita. Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto, perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System, ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capientissimo miscelatore da un litro, per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto, vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente Tritatutto, e grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Tutti gli inserti sono facili da pulire, possono essere lavati in lavastoviglie, e i recipienti sono adatti per la cottura in microonde. Gratis, due coperchi ermetici salva freschezza per una lunga conservazione e un pratico coperchio. Anche questo corposo ricettario, con tante deliziose e salutari idee, è gratis. Chiedete al vostro operatore l'indispensabile set di ampliamento Nutrisano, con tre recipienti aggiuntivi per molte più possibilità di uso e conservazione, una pratica bottiglia con coperchio ermetico per questa fantastica bevanda energetica ovunque vi troviate. Cosa state aspettando? Questo è Nutrisano System. Non farti sfuggire questa offerta televisiva e risparmi subito il 50% del valore commerciale. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.eclshop.tv Date attentamente, lo accendete e lo lasciate lavorare. Tutto lavorato a meraviglia, garantito al 100%. Nulla diventa rancido, nulla si attacca al fondo, è costantemente in movimento. Questa macchina è stata pensata dall'alto al basso e dall'A alla Z. Non sarete soddisfatti, sarete entusiasti. Supererà di gran lunga le vostre aspettative e le piccole quantità saranno lavorate come quelle grandi. Nessun problema. Nocciole, mandorle, lavorazione tridimensionale. E per le decorazioni un coperchio per spargere. Oggi includiamo anche questo. Ciò significa che avrete tutto quello di cui avete bisogno. Guardate qui, il coperchio per spargere è incluso. E ora preparatevi al resto. Grattugiare il parmigiano. Con questa lama piatta potete grattugiare il parmigiano in pochi secondi, nel modo che avete sempre sognato. Ora non crederete ai vostri occhi. Lo accendo e lo spengo. Fatto! Lasciate che ve lo mostri. Lo accendete, lo spegnete. Fatto! Nessun modo migliore per grattugiare il parmigiano. Nessun modo più veloce per farlo. È finemente grattugiato. La lama è praticamente pulita. Questa macchina può fare tutto. E intendo proprio tutto. Usate nuovamente il coperchio per spargere. Spargete il formaggio direttamente sulla pasta. Non è stupefacente? Comprare il pesto pronto è un vero e proprio reato. E vi dirò perché. È così facile e veloce. Non ho bisogno di comprarlo. Non importa quanto costosi siano gli ingredienti. Sarà sempre più economico che se lo compraste già pronto. Vi servono solo 5 ingredienti. Ma sul fondo del barattolo, se lo girate, vi sono altre 20 cose. Elencate tutti gli additivi. Ecco perché dico che è meglio prepararlo fresco. Mettete gli ingredienti, lo accendete e in pochi secondi avrete un gustoso pesto cremoso preparato in un lampo. Non c'è nessuno in Italia capace di fare un pesto migliore o in modo più veloce di quanto si riesca a fare a casa propria. Ecco come si presenta il pesto quando è preparato correttamente. E credetemi, nessuno lo fa meglio di così. Il mio Nutrisano System è importante per me perché noi diamo importanza a una dieta salutare consapevole e perché per i nostri bambini è importante smettere di mangiare cibi pronti e cucinare pasti fatti in casa. Il mattino frulliamo semplicemente tutto e i bambini lo bevono. E fanno il pieno di energia per l'asilo e la scuola. E ora fare passati di verdura è diventato semplicissimo. Non ho bisogno di sette macchine diverse. Qui ho un motore con tantissimi attacchi diversi. Tutto è così facile da pulire, è fantastico. È il miglior partner per qualsiasi donna. Giusto? Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto, perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capientissimo miscelatore da un litro per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto, vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente tritatutto. E grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Tutti gli inserti sono facili da pulire, possono essere lavati in lavastoviglie e i recipienti sono adatti per la cottura in microonde. Gratis, due coperchi ermetici salva freschezza per una lunga conservazione e un pratico coperchio. Anche questo corposo ricettario con tante deliziose e salutari idee è gratis. Chiedete al vostro operatore l'indispensabile set di ampliamento Nutrisano con 3 recipienti aggiuntivi per molte più possibilità di uso e conservazione, una pratica bottiglia con coperchio ermetico per questa fantastica bevanda energetica ovunque vi troviate. Cosa state aspettando? Questo è Nutrisano System. Non farti sfuggire questa offerta televisiva e risparmi subito il 50% del valore commerciale. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.eclshop.tv. Ora visitiamo il fitness center più cool d'Europa, dove una corretta attività sportiva e una dieta salutare sono le chiavi per mantenere un corpo snello. Pepi ha voluto mostrare al suo amico e personal trainer Johans come Nutrisano System può aiutare a garantire risultati di allenamento ottimali. Ciao! Prima di iniziare la sessione di allenamento lasciate che vi offra una bomba vitaminica, non da una lattina ma con energia naturale fresca. Un motore ad alta velocità trincia le fibre del mango cosicché il corpo può assorbire tutto all'istante. Io consiglio sempre, prima dell'allenamento, di prendere qualcosa con tanto fruttosio. Aggiungi dell'acqua e con questa incredibile meraviglia tecnica, da 17.000 giri al minuto, possiamo trasformare in liquidi ogni tipo di frutta e ortaggi. Lo accendete? Lo spegnete! Nutrisano System è la migliore soluzione per una corretta nutrizione e una vita salutare. Vi dà energia! Questo è molto importante per voi! Non potete trovare tutto questo in una lattina! È soffice e cremoso! Natura pura! Sentirete subito tutta la sua potenza energetica. Bene, cosa ne dici? Wow, buono! Gusto fresco! Già, ma non solo è fresco e gustoso, è anche salutare! Grazie Peppi, a dopo! Di nulla! Il fattore importante quando si inizia l'allenamento è sottoporre il corpo a sollecitazione fisica in modo regolare. In questo modo lo obbligherete a continuare a fortificarsi. Potrete migliorare questo processo consumando carboidrati. Ha senso fare questo prima di iniziare l'allenamento, poiché questo fornisce al vostro corpo più energia e forza, permettendovi di potenziare e modellare i vostri muscoli. Nutrisano System aiuta ad estrarre nutrienti, elettroliti e enzimi, così il corpo può metabolizzarli meglio. I risultati di Nutrisano System danno al vostro corpo ciò di cui ha bisogno, non soltanto prima, bensì anche dopo l'allenamento. E signore e signori, noi ricaviamo le nostre vitamine dalla frutta, ma da dove ricaviamo i nostri minerali? Dal verde delle foglie! Ecco cosa dobbiamo liquefare! E se volete davvero ottenere il massimo dal cardo svizzero, dovete tagliarlo a pezzi e assicurarvi che ogni molecola sia tagliata in modo da aprirsi, così da poter utilizzare tutto. Impostate la velocità 2 e azionate. Osservate questo processo di liquefazione. È la dinamica che agisce verso il basso. 17.000 giri al minuto e oltre. Più di una macchina sportiva. Tutto ciò che inserite nel recipiente viene liquefatto. E posso garantirvi una cosa. Questi sali minerali sono veramente ciò di cui il vostro corpo ha bisogno. Una volta al mese avete bisogno di bere un frappè verde. Fine, denso e cremoso. Ecco come dovrebbe essere. Vi sentirete sicuramente meglio. Perderete peso e non proverete più quel senso di fame. È imbattibile! Nutrisano System è il macinino migliore in assoluto. Il migliore perché è un macinino a basso attrito, piccolo volume, un quarto di litro. Il disco levigato con due lame che sminuzzano i baccelli di caffè e non diventano opache. Ora guardate la lama. Confrontatela con quella di un macinacaffè. Frantuma praticamente tutto. La nostra macchina taglia il caffè. Facile da distribuire. E per mantenerlo fresco insieme alla macchina perfetta, forniamo anche il coperchio perfetto. Preserva l'aroma. Proprio come la capsula di caffè. Potete conservarlo nella vostra credenza. Ve ne diamo due. E non è tutto. Voglio superare questa offerta. Oggi incluso anche uno straordinario miscelatore che funziona con il coltello piragna. Quando lo accendete, sentite 17.000 giri al minuto. Sminuzza tutto. Funziona dall'alto al basso. E se dimenticate qualcosa, aprite il coperchio. Niente schizzerà fuori da sopra. Rimarrà tutto all'interno e sarà risucchiato verso il basso. E quando non sentirò più nulla, quando tutto sarà mescolato, avrò un delizioso milkshake. Fatto di ogni tipo di frutto, signore e signori. Appena fatto in un lampo con questa macchina incredibile. Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto! Perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System, ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capientissimo miscelatore da un litro per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto! Vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente Tritatutto. E grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Tutti gli inserti sono facili da pulire, possono essere lavati in lavastoviglie e i recipienti sono adatti per la cottura in microonde. Gratis! Due coperchi ermetici salva freschezza per una lunga conservazione e un pratico coperchio. Anche questo corposo ricettario con tante deliziose e salutari idee è gratis. Chiedete al vostro operatore l'indispensabile set di ampliamento Nutrisano con tre recipienti aggiuntivi per molte più possibilità di uso e conservazione, una pratica bottiglia con coperchio ermetico per questa fantastica bevanda energetica ovunque vi troviate. Cosa state aspettando? Questo è Nutrisano System. Non farti sfuggire questa offerta televisiva e risparmi subito il 50% del valore commerciale. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.eclshop.tv Quanto importante può essere una dieta salutare e quanto la nutrizione deve essere bilanciata per il benessere fisico e mentale. Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista di comprovata competenza e fama Margot Fisher. In qualità di nutrizionista e specialista di crescita naturale ed erbe selvatiche commestibili, cerco di rendere le persone più consapevoli delle vitamine e dei nutrienti più validi disponibili nelle piante e nei cibi naturali. Ciò che dobbiamo fare è miscelare i nutrienti nel modo più efficace possibile. Questo può essere fatto in modo perfetto e veloce con Nutrisano System. Grazie alle lame piragna, il cibo non viene distrutto ma reso disponibile. Non si surriscalda. Questo soddisfa il criterio di cibo crudo. Vale a dire da non riscaldare oltre i 23 gradi centigradi per un assorbimento completo da parte del corpo. Anche da parte delle persone con apparati digerenti deboli e per bambini piccoli, che non sono abbastanza paffuti. È davvero un elettrodomestico affidabile che vi fa risparmiare tempo e preparare cibo in modo corretto e ottimale. Così facendo mangiare diventa un piacere e ha effetti positivi. Una delle macchine più inutili in assoluto è la gelatiera e vi dirò perché, perché impiega ore per fare il gelato. Con Nutrisano System potete produrre gelato in un batter d'occhio. Basterà inserire frutta congelata nel recipiente, latte a basso contenuto di grassi, yogurt o panna per renderlo più cremoso. Il dolcificante potete anche ometterlo poiché la frutta è già dolce di suo oppure aggiungere tutto ciò che volete. Importante, la lama piragna. Con la funzione pulse monteremo il gelato in una sola fase. Mettete su P e accendete. Emulsiona sul fondo. E ora guardate cosa succede. La massa comincia a cambiare colore, ma non un colore artificiale. È il colore naturale dei lamponi. Accendete, spegnete, accendete, spegnete. Il bordo in alto si restringe. Il gelato sta montando. Ecco fatto. Una massa cremosa pronta. Niente gelatiera. Niente pasticceria. Nessuno può competere con questo. Questo è in assoluto il gelato migliore. Una delizia per il palato. Un piacere per gli occhi. È semplicemente fantastico. Gelato fatto in casa. Una vera delizia. E adesso, signore e signori, una crema di peperoni come in un ristorante di qualità. Mettete del peperone crudo. Patate bollite per rassodare. E ora aggiungete acqua bollente. Semplicissimo. Chiudiamo il coperchio. E, molto importante, togliamo il misurino per lasciare fuoriuscire il vapore da sopra. Scegliete ora la velocità 2 e azionate. E ora, ecco dove entra in gioco il misurino. Faremo una deliziosa crema di peperoni. E per renderla ancora più ricca, aggiungerò un po' di panna per addensare. Posso dirvi una cosa. Più veloce, più gustosa e più ricca di vitamine di così è impossibile. La zuppa è calda fumante. Pronta da servire. Guardate. Anche voi potete farla domani a casa vostra. Ho un nutrisano nella mia cucina. È la cosa migliore che riesca a immaginare. Perché sostituisce tutti quegli elettrodomestici che ho collezionato per anni. E con queste fantastiche affilate lame piragna, tutti i frutti e ortaggi vengono tranciati nel giro di pochi secondi. Perfettamente. E tutti i nutrienti vitali sono preservati. E se volete mantenervi in salute, a lungo e invecchiare bene, Nutrisano System vi offre tutto ciò di cui avete bisogno per essere una fata della cucina più che rispettabile. Ora avete visto davvero tutto. Nutrisano System offre una soluzione ad ogni cosa. Anche per squisiti frappè, grazie al motore ad alta velocità. Accendetelo, lasciatelo in funzione ed è fatta. Nel giro di qualche secondo estrarrà tutte le vitamine. Oppure tagliate le cipolle come si dovrebbe fare, con la lama falciforme. Usate semplicemente la funzione Pulse. Una volta, due volte, tre volte. Cipolle tritate senza lacrime. Il miscelatore, con un recipiente della capacità di un litro per tutti i vostri frullati. Oppure anche per le zuppe, è incluso nel pacchetto. E il macinino, il nostro orgoglio. Un macinino a basso attrito. Il miglior macina caffè che possiate immaginare. Aggiungiamo anche questo. Tra i colori disponibili scegliete quello che si abbina meglio alla vostra cucina. Non perdetelo. È il partner ideale per una dieta salutare. Non sprecate il vostro denaro in cibo spazzatura, prodotti precotti e costosi integratori dietetici. Mangiate meglio, in modo più sano e migliorerete la qualità della vostra vita. Siete pronti a scoprire la nostra imbattibile offerta? Esatto, perché se ordini oggi il tuo Nutrisano System, ti invieremo in regalo anche l'indispensabile macinino a freddo. Ordina oggi e sempre in omaggio includeremo anche il capientissimo miscelatore da un litro per preparare in un attimo salse e zuppe deliziose per tutta la famiglia. Esatto. Vogliamo completare il set Nutrisano System includendo anche il quarto dispositivo, il potente Tritatutto. E grazie all'offerta di oggi non lo pagherai un solo euro. Proprio così lo riceverai in omaggio assieme al set completo Nutrisano System 4 in 1. Tutti gli inserti sono facili da pulire, possono essere lavati in lavastoviglie e i recipienti sono adatti per la cottura in microonde. Gratis, due coperchi ermetici salva freschezza per una lunga conservazione e un pratico coperchio. Anche questo corposo ricettario con tante deliziose e salutari idee è gratis. Chiedete al vostro operatore l'indispensabile set di ampliamento Nutrisano con tre recipienti aggiuntivi per molte più possibilità di uso e conservazione. Una pratica bottiglia con coperchio ermetico per questa fantastica bevanda energetica ovunque vi troviate. Cosa state aspettando? Questo è Nutrisano System, non farti sfuggire questa offerta televisiva e risparmi subito il 50% del valore commerciale. Chiama adesso o vai sul nostro sito www.eclshop.tv